Sulla strada già in salita dell'economia italiana rischia di abbattersi la valanga dei dazi. Le misure volute dagli Stati Uniti colpiscono direttamente molti i nostri prodotti che viaggiano verso l'America, meno di altri paesi, però sottolinea il ministro degli esteri Luigi Di Maio in una lettera aperta agli imprenditori in cui assicura il massimo sforzo diplomatico e politico per difendere gli interessi italiani. Il presidente del Consiglio Conte parla di fare di tutto per limitare i danni e questa notizia non favorisce certo il percorso che porta alla manovra economica dove la scelta di non far aumentare l'IVA lascia poco spazio e poche risorse per la riduzione del cugno fiscale delle tasse. Una equazione che non raffredda però l'ottimismo del Premier a Milano per l'Assemblea di Asso Lombarda. La discesa dei rendimenti sui titoli di Stato ci consente di spagnare, pensate, quasi 18 miliardi da qui al 2022. Quindi non è vero che lo spread è un numeretto che riguarda solo la comunità finanziaria. Sono risorse che noi reinvesteremo abbattendo il carico fiscale, riducendo il cuneo fiscale progressivamente che grava sui lavoratori. Sull'entità del taglio, il cuneo fiscale si scaglia Matteo Renzi. Un intervento di 2 miliardi, dice ora Renzi, è un pannicello caldo. Per il Vice Ministro dell'Economia, Misiani, PD, Renzi avrebbe voluto rinviare il taglio al 2021, ma sbaglia. Le tasse sui lavoratori vogliamo tagliarle, sottolinea l'esponente Dem, iniziando subito a partire da chi ne ha più bisogno. Intanto lunedì si entrerà nel vivo del confronto. A Palazzo Chigi sono attese le parti sociali per cominciare a discutere, punto su punto, le misure per il lavoro e lo sviluppo, a cominciare da una maggiore attenzione sugli asili nido. Alessandro Tava... Temi. Da una parte, appunto, sto ben detto cuneo fiscale, staremo a vedere, ma... Dall'altro i dazzi, ci ha introdotto un po' il discorso dei dazzi. Secondo lei, agendo eventualmente sul cuneo fiscale, qualora fosse mai possibile, eccetera, perché adesso è un grande punto di domanda, si potrebbe incentivare i consumi nel settore agroalimentare che è quello che però avrebbe maggiori possibilità? Perché dopo parleremo anche con Gattolini e con Franceschi, gli altri settori, abbigliamento, tessile, calzaturiero, sono proprio in uno stallo drammatico. E quindi le strategie anche a livello regionale per rilanciare il commercio. Ma quello più sensibile, più facile, tra virgolette, sarebbe proprio l'agroalimentare. Potrebbe servire. E l'altra domanda connessa. I dazzi che incombono, ci possono in che termini danneggiare o forse ce la caviamo? Ma innanzitutto la cultura del dazio è sempre una cultura, a mio avviso, molto limitata e limitante. Però intanto ce le ha impiazzate, da una parte la Cina, gli Stati Uniti, insomma, ci troviamo tra i due mostri. Certo, e soprattutto va a limitare probabilmente una delle nostre realtà più importanti a livello d'Italia, perché l'agroalimentare, voglio dire, è un fiore all'occhiello che molte volte, a mio avviso, viene anche poco difeso. Sia per quanto riguarda la parte Europa, vediamo quante sono le limitazioni che tante volte nei nostri prodotti vengono messe e vengono, diciamo, in qualche modo aperti, spiragli, per poter poi produrre anche in altri posti eccellenze che solo noi possiamo avere. Per quanto riguarda il dazio, sono misure che, a mio avviso, dovevano essere combattute, dovevano essere assolutamente... Ma come fai? Se li mettono? Ci puoi trattare? È stato anche cercato di... E questa è la parte diplomatica, questa è la parte, diciamo, in qualche modo di Cesello, in qualche modo che... Secondo lei potrebbero impattare in modo rilevante nel nostro export? Certo, certo che sì, assolutamente che... A livello regionale anche. Eh sì, abbiamo moltissime aziende all'alimentare che chiaramente dovranno fare i conti con questo inaspimento e... Trovare vie alternative. Le vie alternative sono alti mercati, ma gli alti mercati sono già comunque, voglio dire... Quindi mercato interno. E quindi è proprio sul mercato interno che bisogna lavorare, ma soprattutto per ridurre la paura, che è una... Lei dice Paola, paura. Eh sì, lo vediamo, no? Abbasci i consumi e alzi i depositi. Quello che hai ne spendi pochi per poter poi magari metterne via qualcuno, perché noi soprattutto nella nostra cultura veneta è assolutamente... Stemotentici. È nel DNA. Dall'altro lato però bisogna anche spingere sull'impresa ad avere fiducia, ad avere voglia di uscire e non avere paura perché i piccoli imprenditori, proprio in quanto piccoli, un po' subiscono questo tipo di sentiment. Certo. Quindi molte volte anche nel fare impresa si sta attenti, come nella famiglia, perché di fatto tante volte la nostra impresa è una famiglia. Chiaro. Secondo lei, Assessore, nelle politiche estere ci stiamo muovendo in modo consono alle situazioni, a quello che fanno i big, i grandi, o li stiamo subendo? No, noi siamo assolutamente ininfluenti. Ecco, il tema vero dei Dazi è che noi possiamo fermarci a dire che Trump è cattivo, che non ci piace il suo ciuffo ossigenato, possiamo prenderlo in giro, possiamo fare tutto quello che è, però di fatto lui è un presidente di una parte del mondo che fa gli interessi di quella parte del mondo. Il tema, il tema... Li fa bene. Eh? Li fa bene. Lui, se guardiamo i dati, ha la crescita di più il più alta negli ultimi vent'anni. E ha la disoccupazione che praticamente è vicina allo zero. Pregandone se ne tutto il resto... No, no, adesso stiamo parlando di economia. Sì, sì, sì. Ragazzi, questo è. Voi chiedete agli americani se stanno meglio o peggio rispetto a cinque anni fa e la risposta è quella. Il tema vero è che noi non abbiamo nessuno che può contrastare queste politiche internazionali. Nessuno. Ed è qui il tema vero della crisi europea. Cioè noi dovremmo avere un'Europa, che era così secondo chi l'ha creata, che possa interloquire con i grandi potenti del mondo. E invece noi ci troviamo da una parte l'America dei Dazi con Trump che decide esclusivamente in base ai propri interessi. Dall'altra parte abbiamo colossi come la Cina, l'India e la Russia che sono economicamente nettamente più forti di noi. E noi per non avere una politica condivisa, noi siamo il vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro. Perché il tema vero è che noi siamo una Unione Europea solo in apparenza. Abbiamo ogni paese ha la sua politica fiscale, ogni paese ha le sue politiche economiche. Se lei vuole parlare con l'America, lei chiama Trump. Se lei vuole parlare con l'Europa, chi chiama? Chi chiama? Lei può chiamare pure il Presidente della Commissione. Tanto poi ci sarà la Francia che dice, no, io non ci sto. L'Italia che dice, no, ma io ho esigenze diverse. Il Belgio che dice, no, piano perché io devo fare questo. E la Germania che dice, piano perché io ho un problema sui tassi. E tu non avrai mai un interlocutore unico. Figuriamoci se Trump può preoccuparsi della nostra reazione. È insignificante. Lui può modificare i dati solo se, in una visione complessiva, questi possono ricardarlo alla sua economia. Ma non perché noi diciamo, a noi ci fanno male. Perché noi non contiamo nulla. Perché l'Europa non esiste. Cioè non c'è un interlocutore all'altezza. Tu metti in un ring e ti metti un peso massimo. Con Againa, cioè Againa perde. Cosa è tutto che è falsa. Midi uno che pesa 20 kg, irachitico. Cosa è tutto che è falsa. Questa è la nostra situazione. L'Europa, nello scenario internazionale, è questa. Dopodiché, immaginate Trump che arriva di maio. Adesso mi capisco tutto, ma non penso che non dorma la notte. E questa è la situazione. Le nostre diplomazie non siamo riusciti a fare nulla nemmeno per quanto riguarda i dati nei confronti della Russia. Abbiamo avuto un tracollo dell'esportazione nei mercati russi pazzesco. E anche turismo. E anche turismo. Voglio dire. No, no, ma vedete, non contiamo nulla. Su sta guerra dei Dazi, noi non contiamo nulla. Quindi nessuna possibilità, praticamente. No, perché dopo, vedete, anche Trump, che ovviamente fa il suo mestiere, gioca anche a dividerci ulteriormente. Già non siamo uniti. Infatti dice, prendo il vino italiano, non prendo questo francese. E questo non è che ne fa un favore. Certo ci fa un favore, ma saremo degli scemi se pensiamo che ha fatto... Perché gioca a dividersi. Un'Europa che non è unita e quindi... Cioè, noi non contiamo nulla. Sul piano internazionale, gli staterelli, perché siamo staterelli, rispetto a Russia, Stati Uniti, Cina, India, cosa vuoi che contiamo? Va a Ponte, o va a Di Maio, all'estero, cosa conta? Bisogna costruire l'Europa. Cioè, l'unica possibilità che hanno i paesi europei è di lavorare per costruire un'Europa che non è quella di oggi, ma deve essere un'Europa chiaramente diversa, dove si perdono ovviamente poteri a livello nazionale, perché bisogna cederli a un livello che è quello europeo. Dove ci deve essere fiducia. D'altronde l'Europa era nata così, la ceca. Nata per proteggere le produzioni. Allora, su questo dovremmo stare un po' più attenti rispetto a se questa è una strategia necessaria ormai, perché si giocano sui grandi continenti ormai la gestione dei rapporti economici e con le grandi multinazionali, che sono molto più grandi di tanti paesi, compreso quello dell'Italia, a punto di vista... Allora, questo deve essere un obiettivo chiaro. Europa, vogliamo che almeno sulle parti, sull'ambizione, sull'aspetto economico diventi l'interlocutore di base. Poi cercheremo di trovarli all'interno, gli equilibri. Ma questo è un elemento indifferibile, perché altrimenti il nostro continente rischia di essere a pannaggio. È già un mercato per gli acquisti di tutti i grandi paesi, dei grandi multinazionali. Lo siamo già, di fatto, se guardiamo anche in Italia, e in parte purtroppo anche in Veneto, poche grandi imprese e poche grandi marchi, ne ha moda, ne ha tanto. Allora, su questo, la politica, noi dovremmo essere chiari. Invece di fare 100.000 uffici diplomatici in giro per il mondo, che fanno un po' ridere, compreso Bruxelles, forse dovremmo avere più forza, e questo deve essere un obiettivo a breve, perché l'Europa nasce così. Una piccola postilla. Io, penso la settimana prossima, se non mi ricordo l'agenda, devo incontrare, hanno fatto l'archista di incontrare la regione, la città di cinese, non mi faccia dire il nome, perché non me lo ricordo, come si dice esattamente, per sempre scambi commerciali, eccetera, eccetera. Questa città, io incontro il sindaco, questa città ha 27 milioni di abitanti. La città! Cioè, dovuto che veniamo, Veneto, no, allora, Borsetta, hai capito, 27 milioni di abitanti. Sono cambiati il mondo. Cioè, è un incontro molto importante, diciamo così, Sì, ma, però con una città, e io che mi presento, no, contanto, con tutta quanta la mia regione, Veneto, siamo 5 milioni e 9. Questa c'è un comune, un sindaco. Stiamo parlando di dimensioni, che ormai, e vogliamo far cosa, nonate? Assolutamente. Presidente. Sì, io pensavo sul discorso dei consumi interni, soprattutto su quelli alimentari. Io, non so, sorrido anche a pensare, oggi ci sono catene di distribuzione, in piena stagione, oggi, che vendono solo ed esclusivamente peperoni che vengono dall'Olanda. Ora, mi chiedo, se in Italia, no, ma a parte che sia un buono e non buono, io mi chiedo come fanno a non prendere di peperoni. Cioè, i peperoni che facevano in Italia, dove vanno a finire. Questo io mi chiedo. Quindi facciamo nel Veneto, abbiamo tutta la zona di Zero Branco, che è votata al peperone, e io mi trovo sul supermercato ed è solo esclusivamente. Cioè, non è che abbiano questo, quello, la scelta, quello costa a meno. Tra l'altro, anche a prezzi, naturalmente, è fatto in idrocultura, perché in Olanda usano tutto così. Allora, io dico, sì, per spingere, però bisogna capire anche che dietro alla spinta dei consumi interni ci deve essere anche un meccanismo molto più ampio. C'è tutto il meccanismo e qui, purtroppo, rientra la politica, è inutile che noi facciamo. Perché noi possiamo suggerire, cioè, è chiaro che ai consumatori io suggerisco di prendere le cose nostre, ma non perché siano migliori, ma perché per consumare, e sono convinto che non è vero che in Spagna facciano le cose più peggio di noi, o cosa, però, a parità di prezzo, credo sia giusto e corretto scegliere anche italiano. Però noi non possiamo trovarci che poi dietro invece chi gestisce queste cose fa venire mercati che non sono nostri e tra l'altro sono anche insani. Mi passi questo termine, insomma? Ma, guardi, questo che lei dice è vero ed nasce dal fatto che ormai la parte appunto del food è gestito quasi tutto dalla grande distribuzione. Un errore, a mio avviso, enorme che abbiamo avuto qui come sviluppo e che oggi sta veramente mettendo a grande rischio i centri cittadini, ma soprattutto i piccoli paesi. Anche loro sono in crisi comunque, non è che nuotano in acqua. No, aprono, perché se voi guardate, scusate, aprono le grandi catene, aprono adesso piccoli supermercati, piccoli centri. C'è la revisione, no? No, no, ma va benissimo. Quello che volevo invece porre diciamo all'attenzione è che proprio un mese fa abbiamo fatto un consiglio a Venezia appunto per la difida Veneto e ho avuto modo di poter sentire qual è la reale problematica della distribuzione alimentare nei piccoli centri. Si sta, stanno chiudendo tutto. Qual è la reale problematica? La reale problematica è lo spopolamento e la non più sostenibilità di questi piccoli negozi. Per costi? Per i costi. E chiaramente abbiamo piccoli paesi che per fare una spesa devono fare 10 km e chi ne rimette non è sicuramente chi ha la macchina. Ma sono le persone che sono radicati in quel paese che oggi si ritrovano a un piccolo negozio di vicinato. Quindi torniamo ad essere a diventare noi piccoli negozi negozianti di genere alimentare tra virgolette una sorta di la farmacia del paese quindi proprio servizio sociale ed è qui che andremo nel futuro a dover sostenere a creare delle situazioni di sostentamento a livello regionale probabilmente che possono aprire e riaprire questo tipo di... Allora a questo punto mi dai la per chiedere all'assessore cosa si fa in regione cosa si sta facendo in regione rilanciare il commercio se ci sono provvedimenti si parla di stretti del commercio quindi dare informazioni tecniche andiamo subitissime in pubblicità ritorniamo in studio così dopo chiudiamo col capitolo proprio territoriale regionale tra poco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti